Casa Santa Elisabetta nasce nel 1947 per volere di padre Aurelio Dall'Avertezzo, un frate francescano che all'epoca era guardiano del convento di Dugano. All'epoca lui aveva capito la grande difficoltà nella quale vivevano le ragazze madri, oggi le chiameremmo mamme single, che allontanate dalla famiglia non avevano più un posto dove andare. Lui le accoglieva in questa casa dove tra l'altro partorivano, potevano partorire, avevamo una sala parto, una piccola nursery e tutte le mattine saliva dal convento di Dugano, veniva a vedere di cosa avevano bisogno queste ragazze accolte in questa casa. Era assolutamente quello che si diceva il fracercot della situazione. A me sembra di avere padre Aurelio sempre vicino, non poche volte mi rivolgo a lui in alcuni momenti così, perché non è poi sempre tutto oro quel che luccica. E avendo avuto questa grandissima fortuna di leggere tutte le sue lettere, i suoi rapporti, perché poi era un uomo estremamente puntiglioso, scriveva, ha lasciato delle testimonianze, eccetera, doveva essere un uomo straordinario, veramente cappuccino, che ha fatto un gran bel lavoro, essendo sempre fedelissimo alla solidarietà francescana. Io ho preso la direzione a primo febbraio 89, in un momento di grande transizione. Era due anni che il Dipartimento aveva riconosciuto, sotto la loro legge maternità e infanzia, il sussidio alla Casa Santa Elisabetta. Di conseguenza si era un po' atteso il cambio di direzione per dare la nuova impostazione a quella che sarebbe poi dovuta essere il futuro della casa. È una casa che ha sempre saputo adeguarsi a quelli che erano i bisogni sociali del momento e di conseguenza con il mio arrivo si è un po' voluto ampliare la casistica dell'accoglienza alla casa. Quando parlo di casistica parlo anche delle persone che avevano problemi di dipendenza da alcol o droga e che avevano un disagio psichico. Abbiamo anche aumentato quella che era l'età di accoglienza dei bambini arrivando fino a sei anni. Negli anni poi si sono introdotti nuovi servizi su richiesta da una parte del Dipartimento e mi riferisco al punto d'incontro con l'apertura con ancora la mia direzione di tre antenne Lugano, Belinzone e Locarno e l'inserimento anche del centro d'ascolto nell'ambito della revisione della legge sul divorzio. Credo che la casa ha sempre dovuto e dovrà sempre adeguarsi a quelle che sono le nuove sfide che la società ti impone. Si rimane un po' stupiti in fondo che questa casa continua a esistere. Che funzioni ha allora oggi la casa? Casa Santa Elisabetta è come dico sempre io il grande, grandissimo punto di forza. La casa è sempre stata quella di essersi adeguata al cambiamento dei tempi. Oggi purtroppo accogliamo mamme single, mamme con problemi di dipendenze di qualsiasi genere, violenze domestiche e il nostro grandissimo occhio di riguardo è sempre e solo quello di salvaguardare la mamma e il bambino e possibilmente la famiglia. Occuparsi delle mamme in difficoltà voleva dire anche accogliere le loro famiglie con tutti i problemi che queste famiglie si portavano dietro. Noi avevamo a che fare con delle ospiti che non avevano nessuno alle spalle oppure c'erano o dei mariti o dei genitori. Non è sempre stato facile perché prima di tutto si entra con culture diverse dove anche il ruolo della donna stessa viene mal visto e dunque per esempio il dover mettere dei limiti a dei mariti che non accettavano l'imposizione di una donna diventava difficile. Ci sono stati momenti complicati con delle minacce. Il lavoro più facile in realtà era quello che tu svolgevi all'interno. Quando venivi a contatto con l'esterno, sia noi i servizi, le autorità, sia le famiglie, lì diventava veramente più complicato. La relazione che noi possiamo tenere con la famiglia a volte è comunque molto importante perché è necessaria, perché serve a mantenere quel legame naturale che deve essere in qualche modo preservato. Però è anche importante riconoscere il fatto che per quanto debba essere tutelato questo legame deve essere anche un legame sano nell'interesse di questa mamma per quando uscirà dalla casa, per quando andrà via di qua con i suoi bambini. Tenere a volte questi contatti con le famiglie non è semplice perché se sono situazioni derivate da sofferenza, a volte da aggressività e aggressività non solo verbale ma qualche volta anche fisica chiaramente espongono il fianco a rischi maggiori e quindi è ancora più difficile per noi a volte dover riuscire a gestire questi discorsi con le famiglie perché si possono trovare dei rapporti interpersonali con questi familiari non così trasparenti. Non è quindi facile a volte la relazione con loro per quanto importante sia rappresenta a volte però un po' una difficoltà con la quale dobbiamo diciamo convivere. Io ho trovato una casa calorosa con ancora il ricordo del suo padre fondatore che l'ha voluta contro tutti e tutti. Io credo che non avevo altro modo di fare la direttrice che è quello di far sentire che questa era una casa. Io credo che non c'è altro modo per aiutare gli altri che dare tutti se stessi con amore. Come ha visto cambiare questa casa? Ma diciamo che la casa è assolutamente cambiata come è cambiata la società. Questa è la società del tutto e subito e purtroppo il tutto e subito ha un po' rovinato e portato dei disagi nella nostra società. E oggi ribadisco i problemi sono ben altri e grazie comunque anche al nostro personale un personale attento, un personale qualificato alle nostre direttrici che si sono susseguite nei tempi siamo veramente riusciti comunque a rimanere al passo con i tempi. Io sono cresciuta con questa casa, questa è la realtà. Le esperienze che ho fatto mi hanno resa la donna che sono oggi nel bene e nel male. Era una realtà che io non conoscevo ho avuto la fortuna di avere una famiglia alle spalle una di quelle solide e di conseguenza mi ricordo che le prime volte che le mie ospite mi raccontavano le loro storie avevano magari solo vent'anni mi venivano le lacrime agli occhi perché mi rendevo conto che era una realtà che io non conoscevo assolutamente e non potevo capire come le persone in così giovane età potessero già aver avuto delle esperienze così terribili. Un anniversario storico per la Casa Santa Elisabetta da 70 anni come funziona la casa? La casa funziona in modo diciamo abbastanza naturale se vogliamo forse è il termine più adeguato che si possa scegliere ci sono dei ritmi ben precisi degli orari ben precisi che si cerca di fare osservare alle nostre ospiti perché l'obiettivo fondamentale della loro permanenza all'interno della casa è proprio la ricerca di un'autonomia e il raggiungimento, il conseguimento di un'autonomia che consenta alle nostre ospiti una volta poi dimesse di qua di poter costruire un percorso in totale appunto autonomia e libertà con il proprio figlio o figli Ecco ma concretamente cosa vuol dire? Vuol dire che la mattina c'è una sveglia quindi c'è la colazione negli spazi comuni perché abbiamo una sala da pranzo per tutti i pranzi, tutti i pasti secondo poi le attività previste per ciascuna mamma gli orari vengono scanditi a dipendenza delle attività di ciascuna di loro i bambini se non sono inseriti o al nido oppure nelle attività al di fuori dalla casa che possono appunto essere alla scuola dell'infanzia o scuola o altri spazi questi bambini se sono molto piccoli vengono seguiti insieme alla mamma in quello che noi chiamiamo all'interno della casa lo spazio mamma bambino che è uno spazio che riteniamo molto importante perché è dedicato espressamente alle mamme per insegnare loro per aiutarle in questo percorso riabilitativo all'interno della casa vuol dire imparare a interagire con lui e le mamme che arrivano da noi ospiti molto spesso hanno delle grosse difficoltà legate proprio alla relazione col proprio figlio sono, mi si perdoni il termine innamoratissime magari del proprio bambino però magari hanno delle difficoltà molto grosse nel saper manifestare questo affetto gestire questa affettività nei confronti del proprio figlio e quindi vuol dire aiutarle a capire quali sono in maniera basilare le esigenze del bambino e quindi spiegare a volte che cos'è un pianto per quale motivo un bambino piccolo, un neonato magari piange che non è soltanto, anzi non è proprio per infastidire come pensa a volte la madre la propria madre ma in realtà è perché esprime un bisogno la difficoltà sta proprio nel aiutare queste mamme a riconoscere le esigenze di quel bambino secondo le necessità, secondo il tempo secondo l'età del bambino e poter rispondere a queste richieste il nostro sforzo, il nostro intento è quello di aiutare questa mamma a capire quali sono le esigenze i bisogni di questo bambino ma a viverlo in maniera più naturale possibile più secondo le leggi di madre natura e non altro per aiutare il bambino a stare bene con la mamma e la mamma a comprendere appunto quelle che sono le esigenze del figlio Entrando qui si ha una sensazione di casa ecco, non sembra un istituto Devo dire che è un nostro grande impegno e soprattutto teniamo moltissimo al fatto che le nostre ragazze dei nostri ospiti e i nostri piccoli ospiti si sentano a casa quotidianamente a casa dunque sarete entrati avrete sentito un profumo della cucina avrete sentito le urla dei bambini in giardino e non deve essere né troppo la casa dove uno fa quello che vuole perché casa a tutti gli effetti non lo è e non lo sarà mai sempre istituto è purtroppo però deve essere anche scandita la giornata delle nostre ospiti deve comunque essere scandita da orari e da impegni da programmi perché se no verremmo meno anche a questa sorta di educazione pedagogica alla crescita dei propri bambini se noi non organizzassimo la giornata all'interno di casa Santa Elisabetta per le nostre mamme con un'organizzazione di orari e una ripartizione di orari allo stesso modo non aiuteremmo le mamme a costruire questa autonomia per quando saranno fuori di qua le mamme partecipano alla gestione della casa? la gestione della camera è del tutto autonoma quindi loro devono occuparsi della pulizia dell'ordine all'interno della camera camera all'interno della quale vivono col bambino quindi è chiaro che il discorso riguarda sia loro che il bambino tante volte queste mamme arrivano da situazioni fuori da di qua difficili dove magari si sono osservate delle grosse difficoltà proprio nella gestione quotidiana dell'appartamento e quindi quando arrivano poi da noi devono riuscire a superare questo impasse perché se no rischia di essere delle valutazioni più importanti sulle quali poi rischiano di andare a cadere in sede poi di decisione da parte delle autorità o di chi è preposto per il loro futuro oggi cosa vuol dire gestire questa casa? il cantone ci considera il fiore all'occhiello e abbiamo col cantone un ottimo rapporto abbiamo un cantone attento alle nostre esigenze malgrado le difficoltà della società purtroppo sappiamo tutti che i tagli ci sono ovunque e poi abbiamo da non dimenticare tanti benefattori e tante persone che ognuna a modo proprio rendono più facile il cammino della Casa Santa Elisabetta la gioia più grande è quando si osservano questi atteggiamenti da parte delle mamme di condivisione, di ringraziamento quando riescono a manifestarti quella gioia o quella partecipazione e riconoscimento per quello che si sta facendo questa secondo me è la gioia più importante il vedere il sorriso di questi bambini quando si vede che sono contenti con la loro mamma e si percepiscono quegli elementi che ci fanno capire che stiamo andando nella direzione giusta questa è la gioia più importante il contatto con i bambini il contatto con le mamme io so di aver fatto per queste giovani quello che ho fatto per mia figlia nel crescerla tu dai ma ricevi tantissimo in cambio non c'è un ricordo particolare io penso che sia veramente un puzzle di ricordi e di ragazze anche riconoscenti tuttora alla Casa Santa Elisabetta e anche per il vivizia